Salgono a 40 i casi positivi in Valle Peligna. Nella tarda serata di ieri è arrivato il risponso positivo del tampone per un 19enne di Pettorano Sul Gizio, collegato con il focolaio di Ferragosto, perché è entrato in contatto con il trentenne residente nella frazione, risultato positivo lo scorso sabato. Questa mattina è risultata positiva anche la madre, dipendente del reparto di radiologia dell'ospedale di Sulmona. La donna ha prestato servizio fino all'altro ieri nel reparto è scattato l'allarme, i contatti più stretti saranno sottoposti al tampone. Un fronte che resta particolarmente curioso perché la maggior parte dei contatti diretti con i contagiati è risultata negativa al virus, mentre i cosiddetti contatti indiretti hanno contratto il covid. Il focolaio che destra più preoccupazione in ogni caso è quello della parrucchiera che solo ieri ha fatto registrare 9 positivi tra Sulmona e Introdacqua, tutti i soggetti riconducibili all'alveo familiare. Nelle prossime ore saranno svolti i tamponi sui clienti dell'attività e su altri contatti, mentre ieri, dopo il caso di positività accertato sulla dipendente di un centro estetico legata allo stesso focolaio, è scattata la quarantena per il titolare e per i colleghi che hanno deciso autonomamente di sospendere l'attività fino a nuove disposizioni. Un piccolo grande esempio di responsabilità. L'ASL ha chiesto la lista dei clienti di riferimento a un determinato arco temporale. Il conto delle positività sale quindi a 40 in Valle Peligna, 22 sul Mona, 6 Prato La Peligna, 6 Pettorano Sul Gizio, 4 Introdacqua, 1 Corfinio, 1 Scanno. Il dato sale a 41 se si considera anche l'alto sangro. Cresce quindi in maniera esponenziale il numero dei soggetti posti in soveglianza attiva dalla ASL, 277 in relazione ai focolai esistenti. Si tratta in ogni caso di un dato parziale destinato a aumentare nelle prossime ore, ma in giornata sono arrivati anche una serie di tamponi negativi, segno che il virus si può evitare con i comportamenti responsabili, uso delle mascherine, distanza sociale, igienizzazione delle mani.